applausi non gli fanno due mizioncini di vitamine ma come cacchio la fanno? non è possibile, umanamente non è possibile con una persona 70 anni fa così C'è ma quello fatta male Io ho una pazienza da 110 anni Sì ma mica somma sul palco così No però ho 110 anni Isolanza magnifica Sì metta la paglietta che fa Eccolo E' serata maniglia Sì non è molto E' la capicccia però E' fatto il carriere di subito Sì 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 Sì, and she'd tell you she'd stick on with me And she'd just give me a turn to a life where nothing's gay And nothing's lost, but such a car Grazie. Grazie. Grazie.